musica avete visto che purtroppo c'è stato un veniente Maurizio l'altro giorno mi telefona e quindi per fortuna Danilo è un uomo è riuscito a trovare il nostro grande musicista e abbiamo il nostro concerto stamattina mi telefona hanno soppreso il treno però vedete è riuscito a arrivare ho detto mille risorse buongiorno a tutti è veramente un piacere per me è la quinta volta se non sbaglio che vengono a suonare in questo posto suggestivo e questa volta mi accompagna Mike Merlo che ha già presentato Flavio abbiamo iniziato benissimo continuiamo ora con un brano intitolato Blueberry Hill grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.